Ciao a tutti e benvenuti su Ticino Track & Bike, il canale YouTube che vi accompagna a piedi e in bicicletta alla scoperta della Valle del Ticino. Oggi ci siamo fermati a Bernate, Ticino, dove colpisce l'attenzione la canonica con la chiesa di San Giorgio e Palazzo Visconti. Ma avviciniamoci per scoprire più da vicino questi due monumenti. La chiesa di San Giorgio ha origini molto antiche. Pensate che era già in stato di abbandono nel 1186, quando Papa Urbano III decide di ristrutturarla, ampliarla e fondarvi una canonica agostiniana. La scelta del luogo non fu ovviamente casuale, perché l'edificio sorgeva sui terreni di proprietà della famiglia Crivelli, che era la famiglia di Papa Urbano III, ai tempi una famiglia molto ricca e influente in questa zona. L'edificio venne quindi ristrutturato e ampliato, ma la chiesa che vediamo noi oggi è frutto di successive modifiche e interventi. Il campanile è tardo gotico, ma quello che colpisce è il protiro bianco che contrasta con il resto dell'edificio in mattoni rossi. Ho usato un termine difficile. Che cos'è un protiro? Un protiro è un piccolo portico posto a protezione e copertura dell'ingresso principale di una chiesa. Quindi questo è un protiro. L'interno è molto elegante nella sua armonia di linee e colori. Volevo farvi notare la lunetta del presbiterio. Niente panico, ho usato un'altra parola difficile, ma la spiego subito. Il presbiterio è semplicemente lo spazio dietro l'altare riservato al vescovo e al clero. Quindi questo è un presbiterio. E questa è la lunetta che volevo farvi notare. È un alto rilievo trecentesco di carattere gotico, opera dei maestri campionesi. Viene attribuito a Bonino da campione. Rappresenta la Madonna con bambino in compagnia di diversi personaggi. Siccome questa è la chiesa di San Giorgio, tra i vari personaggi c'è San Giorgio. Lo riconosciamo perché è vittorioso con i piedi sul drago. Accanto alla chiesa di San Giorgio sorge la parte residenziale della canonica, nota come castello o palazzo Visconti. È un classico edificio quattrocentesco e rappresenta una fase di transizione tra il castello fortificato e la villa residenziale rinascimentale. Del castello mantiene la pianta quadrata con cortile interno, mentre della villa rinascimentale presenta questo loggiato con colonne che si affaccia sul Naviglio Grande. Il loggiato adesso è parzialmente nascosto dagli interventi di recupero. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale se vi piace seguirci alla scoperta della Valle del Ticino. Un saluto a tutti da Claudio di Ticino Track & Bike.